L'ho rimandato davvero troppe volte questo argomento, ma è arrivato finalmente il momento di parlarne, dopo la sigla. Benvenuti e bentornati signori e signori, street photographer o aspiranti tali e fenomeno. O ancora un pochettino indecisi. Nel caos dei punti di vista, dei pareri, delle opinioni, dei gusti, delle teorie, essere capiti è sopravvalutato, proprio come lo stile. Un quadro è impossibile da spiegare, ed è proprio per questa ragione che bisogna dipingerlo, diceva Munch nel suo diario Frammenti sull'arte. E lo stesso vale per la fotografia. Avevo in serbo questo argomento già da un po' e ammetto di averlo rimandato più volte, forse anche troppe volte. Perché parlare di stile non è propriamente una passeggiata. Perché parlandone camminiamo in un campo minato, un territorio dove già so che tanti si scandalizzeranno, ma soprattutto non è facile parlare di stile, perché la soggettività è d'obbligo. E quindi vi invito, come sempre, a condividere liberamente i vostri pensieri, le vostre prospettive, qui sotto nei commenti. Prima di tutto però leviamoci sto dente e diciamoci che cos'è lo stile. Perché tutti quanti vorrebbero averne uno, ma soprattutto perché tutti quanti vi dicono che dovete avere uno stile. Ecco, lo stile è una magia. È quella magia che rende un artista unico nel suo genere. È l'insieme delle scelte e dei mezzi espressivi che costituiscono l'impronta di una scuola, di una tradizione letteraria, musicale o artistica, dice Google. È praticamente l'insieme delle caratteristiche che accomunano i lavori dello stesso artista. E quindi detto in maniera molto breve e anche molto semplice, lo stile è quella cosa che rende un artista distinguibile e riconoscibile rispetto a tutti quanti gli altri. Questo ovviamente non vale soltanto per la fotografia, ma accomuna un po' tutte quante le arti. E quando infatti pensiamo agli artisti che ci piacciono, è inevitabile notare che ognuno di loro possiede un segno distintivo, un marchio di fabbrica che li rende inconfondibili. Ed è proprio qui che si apre un mondo che, a diri il vero, a me manco piace troppo. Perché dobbiamo fare una distinzione fondamentale. E cioè tra lo stile per l'artista o il fotografo e lo stile invece per il mercato dell'arte e della fotografia. Perché da una parte c'è l'artista e quindi il fotografo, per cui lo stile non è soltanto una questione di estetica, ma è il risultato di un percorso. Di una ricerca che affonda le radici nella sua anima e anche nel suo io più inconscio. Dall'altra parte invece c'è il mercato dell'arte, che ha le sue logiche, ha le sue dinamiche e che sembra premiare soprattutto chi riesce a distinguersi con un proprio stile che è ben definito. E quindi? Ecco, quindi la questione proprio qui si fa spinosa. Perché da un lato abbiamo detto che abbiamo l'artista nella sua essenza più pura e dall'altro invece c'è il mondo esterno che giudica, che valuta e che mette le etichette, anche troppe. C'è una sorta di divario, c'è una discrepanza tra quello che lo stile rappresenta per l'artista e quindi un elemento di una ricerca più ampia che include il messaggio, l'espressione tecnica ma anche quella emotiva e invece c'è quello che significa per il mercato, dove lo stile può diventare a volte anche l'unica moneta di scambio. E questo mi porta a riflettere su quanto sia diventato cruciale nel panorama artistico contemporaneo il bisogno di questo marchio distintivo, spingendo molti di noi a una ricerca quasi ossessiva del proprio stile. Anche io nel passato ho sentito il peso di questa ricerca e mi è capitato da scrittore ma anche da musicista e ovviamente anche i primi tempi da street photographer. E confesso anche di aver sofferto la frustrazione di non aver mai potuto affermare di avere uno stile inconfondibile, anche se oggi però diciamo che ho raggiunto la mia pace interiore, perché non so se quello che ho oggi può essere definito effettivamente uno stile unico, ma ho trovato il mio modo di esprimermi e questo mi basta. Me l'avete sentito dire centinaia di volte che il parlare di stile mi fa salire il crimine, ma so perfettamente anche che cercare il proprio stile fa parte del proprio viaggio artistico. Quello che critico però, ed è quello che voglio anche evidenziare in questo video, è quanto questa ricerca possa essere distorta dalla pressione del successo, dalla necessità di essere immediatamente riconoscibili, di avere quella firma che ci contraddistingue in modo così evidente da renderci appetibili nel mercato. Che poi diciamoci anche la verità, che per il 99% di noi street photographer, il mercato è costituito da Instagram, con i suoi like e i suoi follower, ma niente di più. E questo ci porta a considerare lo stile come un risultato che fine a se stesso, anziché come una naturale evoluzione del nostro percorso artistico. Diventa quasi una sorta di obbligo, è un must-have che rischia di appiattire la nostra creatività e di inibirne la sua espressione più autentica. Ecco perché personalmente sostengo che lo stile, se è concepito in questi termini, è sopravvalutato e soprattutto è potenzialmente pericoloso. Facciamo però un passo indietro. E cioè, com'è che si fa a non restare impantanati in queste sabbie mobili? Come possiamo, noi fotografi, cercare il nostro stile senza però cadere nella trappola di renderlo un'etichetta vuota? La mia proposta è di guardare al di là dell'estetica, di cercare non tanto uno stile, ma quanto una voce, un linguaggio che sia veramente nostro. Questo però implica un viaggio all'interno di noi stessi, una ricerca che va oltre la superficie visiva delle nostre fotografie. Focalizziamoci perciò su quello che vogliamo comunicare con le nostre fotografie, lasciando che sia proprio questo desiderio di espressione comunicativo a guidarci. Osserviamo sempre le nostre fotografie, anche quelle vecchie. Cerchiamo di capire quali sono i fili rossi che le uniscono, quali sono i temi, quali sono i colori, quali sensazioni ritornano più frequentemente. E soprattutto diamoci il permesso di sperimentare, di esplorare, di sbagliare. Perché è soltanto attraverso la sperimentazione, attraverso gli errori che possiamo scoprire quella voce unica che è dentro ognuno di noi. Quella voce che in realtà non ha bisogno di inseguire uno stile, perché è essa stessa stile, perché è espressione del nostro io più autentico. Quando raggiungi la corrispondenza tra quello che hai in testa e la capacità di ottenerlo e il risultato ti piace, ti soddisfa, allora ti sei già creato il tuo stile. E poco importa poi se non è completamente diverso da quello degli altri oppure se è meno riconoscibile di quello degli altri. Solo il vero genio è sempre riconoscibile, ma non siamo tutti quanti geni. Questo però non significa che anche chi non è un genio non può avere un proprio stile. Non sono tutti quanti Jimi Hendrix per intenderci, eppure quanti musicisti conosciamo che ci piacciono. Ecco, la verità è che c'è troppa ricerca, troppa rincorsa alla notorietà, alla riconoscibilità e al riconoscimento sociale. Ma quello che fai deve soddisfare prima di tutto te stesso, non gli altri. E se raggiungi questo scopo, allora ti sarai già costruito il tuo stile. Magari sarà criticabile in certi ambienti, va bene, ma sarà giusto per te, sarà giusto per il tuo modo di vedere le cose. E questo basta. Il mercato invece avrà sempre le sue esigenze, le sue dinamiche. E non nego che può essere frustrante sentirsi dire che lo stile di questo oppure di quello è eccezionale e che è migliore del nostro. Però qui entra in gioco la nostra integrità, la nostra capacità di restare fedeli a noi stessi, anche quando questo significa andare controcorrente. Alla fine quello che conta, sempre, è l'autenticità, la capacità di restare veri, di esplorare senza paura, di cambiare e di evolvere, seguendo proprio il nostro istinto creativo. Lo stile verrà col tempo da sé, come risultato naturale di questo percorso e non come l'obiettivo primario. La bellezza delle tue fotografie risiede nella loro capacità di parlare della tua vita, della tua verità, di toccare le corde dell'anima, di chi guarda, di chi ascolta, di chi percepisce. E questo, credetemi, che vale molto di più di qualsiasi altro riconoscimento. C'è una citazione di Hansel Adams che per me vale quasi di più del suo sistema zonale. Esattamente, Hansel Adams diceva che il lavoro di ogni uomo rispecchia sempre la sua personalità. Ecco, per me queste parole riassumono perfettamente quello che sto cercando di spiegare in questo video. È necessario lasciare che le vostre fotografie siano l'espressione di voi stessi, delle vostre passioni, del vostro entusiasmo e di tutto quello che vi coinvolge nel mondo. Nel 1967 il professor Stephenson e i suoi colleghi hanno messo in piedi un esperimento rivoluzionario. Hanno preso cinque scimmie e le hanno messe in una stanza dove c'era una banana attaccata dal soffitto e una scala per raggiungerla. Ovviamente, come avevano previsto, appena nella stanza una di queste scimmie si arrampica sulla scala per cercare di prendere la banana. Appena la ferra, però, questi scienziati fanno piovere dell'acqua ghiacciata su tutte quante le altre scimmie. Da quel momento in poi, quando una delle scimmie si avvicinava alla scala per raggiungere la banana, veniva aggredita e picchiata da tutte quante le altre, che ovviamente non volevano più farsi una doccia fredda. A questo punto gli scienziati hanno tolto dalla stanza una di queste scimmie e ne hanno inserito una nuova che non sapeva nulla di quello che era successo. E appena questa scimmia è entrata nella stanza ha provato anche lei a salire sulla scala per raggiungere la banana. Ma appena si è avvicinata alla scala, tac! Tutte quante le altre l'hanno aggredita e l'hanno picchiata. E anche la nuova scimmia perciò ha imparato a sue spese che era sbagliato avvicinarsi alla scala. A questo punto una seconda scimmia è stata sostituita nella stanza e anche questa scimmia appena è entrata ha provato ad avvicinarsi alla scala per raggiungere questa benedetta banana. E di nuovo tac! È stata aggredita e picchiata anche lei. E la cosa bella è che è stata aggredita e picchiata anche dalla scimmia che l'ha stata fatta entrare poco prima e che non sapeva non sa il perché non bisogna salire sulla scala e non lo sa perché non ha subito direttamente la pioggia di acqua agliacciata. Via via gli scienziati hanno sostituito tutte quante le scimmie nella stanza e anche quando tutte quante le scimmie che sapevano dell'acqua agliacciata erano ormai fuori dalla stanza chiunque osava avvicinarsi alla scala veniva comunque aggredito e picchiato. Ecco forse lo avrai capito il perché ti sto raccontando questa storia oltre al fatto che mi piace raccontare le storie va bene però ti chiedo ma tu sei libero? Cioè stai agendo con consapevolezza oppure stai facendo come le scimmie nella stanza? Ecco nel mondo cambia tutto e cambia in maniera velocissima cambia anche tu cambia anche lo stile però alcuni di noi continuano a fare e dire sempre le stesse cose soltanto perché qualcuno gli ha detto che si è sempre fatto così questo vuol dire che forse questo stile da ricercare a tutti i costi e che tutti quanti vogliono farti raggiungere altrimenti non sei un fotografo o non sei un artista forse non fa per te finché non provi da solo a salire su quella scala che ti potrebbe portare effettivamente a un livello superiore tu questa cosa non la scoprirai mai e perciò rischia prova scopri prendi le botte se è il caso sei unico anche se gli altri faticano ad ammetterlo ma va bene fottitene abbiamo soltanto due strade da imboccare o fregarcene e andare avanti per la nostra strada oppure cercare di adeguarci ecco io ho già scelto e preferisco di gran lunga un'arte che sia autentica rispetto a un'arte che sia riconoscibile e questo sia da fotografo ma anche da spettatore è l'autenticità quello che dovremmo cercare al posto dello stile eventualmente lo stile verrà da sé ma verrà come qualcosa di spontaneo non come unico e smanioso obiettivo è una volta che avremo raggiunto quello stile chiediamoci se è il caso di mantenerlo anche per tutte quante le fotografie future io personalmente rispondo di no perché lo stile di un vero autore dovrebbe modificarsi in base ai cambiamenti della sua vita della sua personalità nel corso degli anni e se questo non succede può essere o per la perdita dalla capacità di soddisfare se stesso oppure per ragioni puramente di etichetta perché dopo tutto anche il marketing può indirizzare e definire lo stile e anche oggi sono andato lungo mannaia se però siete rimasti fino alla fine vuol dire che questo argomento ecco interessava un po' anche a voi e non soltanto a me perciò vi rinnovo l'invito a commentare giù e a dirmi le vostre opinioni e anche i vostri punti di vista mettete like al video condividetelo con tutti quanti anzi con più gente possibile mi raccomando iscrivetevi anche al canale e ci vediamo la prossima settimana